Il diario di Anna Frank, venerdì 9 ottobre 1942. Cara Kitty, oggi non posso darti che notizie brutte e deprimenti. Stanno restando a gruppi tutti i nostri amici ebrei. La Gestapo è tutt'altro che ricordosa con questa gente. Vengono trasportati in carri bestiame a Westerburg, il grande campo per ebrei e ladrende. Westerburg deve essere terribile. Per centinaia di persone un solo lavatoio e pochissime latrine. Le cucette sono tutte l'una accosta all'altra. Uomini, donne e bambini dormono insieme. Per conseguenza, quanto dicono, vieno a grandi moralità. Fuggire è impossibile. Quasi tutti gli ospiti del campo sono riconoscibili dai loro crani rasati e molti anche dal loro aspetto ebraico. Se in Olanda stanno già così male, come staranno nelle contrade barbare lontane dove li mandano? Secondo noi li ammazzano quasi tutti. La radio inglese dice che li gasano. Forse è il metodo più spiccio per morire. Sono molto turbata. Mip racconta tutti questi errori in un modo che dà l'angoscia. E anche lei è sconvolta. Qualche tempo fa, per esempio, aveva visto una vecchia ebrea paralitica, seduta davanti alla porta di casa. Doveva aspettare la Gestapo, che era andata a prendere un'auto per portarla via. La povera vecchietta era terrorizzata per gli spari della contraera. C'erano apparecchi inglesi in volo sulla città e per le luci abbaianti dei proiettori. Però Mip non poteva portarla dentro. Nessuno l'avrebbe usato. I tedeschi non scherzano con le loro punizioni. Anche all'hanno utilità, il suo fidanzato deve partire per la Germania. Lei ha paura che gli aviatori che volano sulle nostre case lasciino cadere il loro calco di bombe di quasi un milione di chili sulla testa di Dirk. Scherzati come un milione non lo avrà, oppure basta una bomba sola li trovo molto fuori posto. Veramente Dirk non è il solo a dover andare, ogni giorno partono treni pieni di giovani. Durante il percorso, quando si farmano in qualche stazioncina, cercano di allontanarsi alla chitichella e di nascondersi, ma solo una piccola percentuale ci riesce. Non sono ancora alla fine del mio canto funebre, hai mai sentito parlare di ostaggi? È l'ultima moda in fatto di punizione per i sabotatori. È la cosa più tremenda che ti puoi immaginare. Cittadini ragguardevoli e innocenti vengono gettati in prigione, in attesa di essere condannati. Quando avviene un sabotaggio, se non si trova l'autore, la gasta può mettere semplicemente al muro cinque staggi. Sovente nei giornali si leggono i loro annunci mortuari. Questi misfatti vanno sotto il titolo di Fatali Incidenti. Va il popolo i tedeschi e anche una valterra dei loro, ma no, Hitler ci ha fatto apologizzata da molto tempo e veramente non esiste maggiore nemicizia al mondo che fra tedeschi ed ebrei. Su quello spiazzo c'erano tantissime persone in fila pronte a salire sui treni. Eravamo tutti stipati in quel vagone e noi due non ci staccamo un attimo dalla mamma. Rimaniamo in piedi, avvinghiati, ognuno ha una gamba. All'interno del carro merci le persone se ne stavano tutte in silenzio, immobili. Avremmo voluto sapere dove stavamo andando, ma non potevamo chiederlo. Quella domanda rimasa da leggere nell'aria. Nessuno purtroppo ci avrebbe risposto. Durante il giorno si poteva giocare all'aperto, giochi di fantasia usando al massimo i sassolini in estate perché all'intorno non cresceva neppure l'erba e tirandoci palle di neve in inverno. Quando eravamo all'aperto, in lontananza, vedevamo il fumo dei forni crematori. Doveva venire da lì l'odore di bruciato, una puzza che non se ne andava mai. La morte era ovunque intorno a noi, ma stranamente non avevamo paura. Dopo un po' diventò addirittura normale vivere in quel modo. Da mesi non potevamo stare con le nostre mamme, con cui invece eravamo abituati a passare intere giornate. Così le malvagie SS radunarono i bambini, che alla proposta di vedere la mamma non avevano potuto certo immaginare che si trattasse di un inganno. Grazie. 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 Grazie.